Sarà il comune di Nereto ad essere capofila e ad aver risposto ad un bando regionale che riguarderà il piano rurale. Cinque comuni hanno risposto a questo bando, di che cosa si tratta? Sì, siamo capofila insieme ai comuni di Santomero, Torano Nuovo, Civitella del Tronto e Ancarano. È il piano di sviluppo rurale della regione Abruzzo, questa nuova programmazione 2014-2020 che mette a disposizione dei fondi per gli enti pubblici, per ristrutturazione di fabbricati già esistenti, quindi non nuove costruzioni, per poter attivare dei servizi di base in favore dei cittadini sui vari territori. È intanto una seconda esperienza di retizzazione di comuni che attuiamo noi come capofila, perché avevamo già fatto un'esperienza del genere con Abruzzo Open Day Winter, dove avevamo raggruppato sei comuni attorno al comune di Nereto insieme alla Prolog. Questa è un'altra occasione in cui andiamo a progettare nell'ambito regionale un bando su un bando relativo al PSR insieme ad altri quattro comuni, quindi saremo in cinque. Un progetto davvero importante, non abbiamo grandissime probabilità di approvazione perché i maggiori punteggi sono attribuiti ai piccoli comuni montani che rappresentano una priorità per il PSR. Però quando si partecipa a un bando non si può dire mai nulla. Noi speriamo di poter essere finanziati, ma in ogni caso abbiamo realizzato due grandi obiettivi. Il primo è quello di avere dei progetti pronti, per cui in futuro avremo la possibilità di presentarli anche su altri bandi e su altri avvisi pubblici. E intanto continuiamo a sviluppare partenariati con gli altri comuni della Val Vibrata per poter essere sempre più efficaci per lo sviluppo del territorio. L'interesse del cittadino come si concretizza su questo bando? Noi abbiamo, nell'ambito di questa progettualità, abbiamo creato una pianificazione per la ristrutturazione dell'ex bocciodromo. È un fabbricato che si trova nel parco sotto via Gramsci, attualmente in stato di totale abbandono e degrado. Ma non soltanto per nostra responsabilità, perché è stato oggetto di una lunga causa legale che si è conclusa poco più di un anno fa ed ha statuito che il Comune è proprietario di quel parco e di quel fabbricato. Quindi da questo momento in poi possiamo davvero lavorare e individuare delle opportunità per poterlo riqualificare. Oggi purtroppo è una zona davvero mal frequentata dove si concentrano varie problematiche. Dobbiamo assolutamente recuperarla. Per cui questo bando che riguardava proprio la ristrutturazione di fabbricati esistenti è stata per noi una immediata applicazione dell'avviso pubblico intervenire in quella zona. Abbiamo un bellissimo progetto, a questo punto è pronto, è un esecutivo definitivo. Per cui alla prima occasione di finanziamento, sarà questa o sarà un'altra, riusciremo a realizzarla.